Benvenuti al video Questa è una presentazione del prodotto fotocamere digitali compatteni con Coolpix S9400 De Coolpix S9400S Slimline Bodycon Celsa Wealth of Cutting Edge Technology Det Sets Dis 18MP Camera Apart An 18X Nikkor Optical Super Zoom Lens End 18MP Backlit CEMEOS Sensor Enable U2 Capture Distant Action End Candid Close UPS UITIS Optical Lens Shift Vibration Reduction Produces Sharp Results End Steady Images On The Large OLED Screen Making It Easy To Frame Your Shows Record Full HD Movies A T The Touch Of A Button End Even Combine Separate Sceness As A Single Siameless Movie Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT Clicca sul link nella descrizione sottostante Grazie per la visione